Quindi l'annunciamo? Certo! Luciana Littizzotto! Perché non scendi? Scusate, 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 stop! Perché non esci? Perché non esco perché sono a casa, blindata! No! Non mi vedi? Un regalo di Natale meraviglioso! Come mai sei a casa? Che bell'albero che hai, quante palline! Perché ho il Covid, minchia! Hai il Covid, tesoro! Hai il Covid! Ma intanto comunque adesso gli italiani sono divisi in due. Quelli che hanno l'influenza e quelli che hanno il Covid. E praticamente sono gli stessi sintomi che ne accorgi solo se fai il tampone. Ma io ho fatto attenzionissima! Tu lo sai che sono paranoica! Sì, è vero! Sono sempre stata con la mascherina e il disinfettante e la rava e la fava. Adesso da domani mi metto le caricitofoni, che così almeno tanto non cambia niente, è uguale! Però non sapevo che il Covid facesse cadere le palline dagli alberi e facesse... È un albero tristissimo, non c'è neanche una pallina! Non è tristissimo! È una luminaria che ce l'avevo nel terrazzo e l'ho messa giù perché mi hai rotto le palle perché volevi farmi togliere addirittura l'armadio a muro. Cosa faccio? Tolgo l'armadio a muro? No, è triste! Mettici qualcosa davanti! Però pensavo un albero addobbato! E poi non sapevo che facesse crescere i capelli rossi col pompone il Covid! Stai proprio bene! Ah, ma fai molto ridere! Stai proprio... No, tu fai molto ridere, non io! Cioè io faccio ridere! Viconciata così faccio ridere io! Senti, e... Beh, ma dovevo fare qualche cosa di carino! Potresti chiedere a Burioni se fanno un test per capire esattamente quando ti prendi il Covid? Cioè il momento esatto, preciso! Io voglio sapere dove me lo sono preso! Dove te lo sei preso? Va bene, sì! E adesso glielo chiedo, eh! C'è una coda? È passata una coda! C'è una coda! Giuro! È passata una... Le è cresciuta la coda! È il gatto! Le è cresciuta la coda! Ah, Luciana! È cresciuta la coda! Di nuovo! Le sono cresciute due coda! No, quello era il cane! Appunto, due coda! Una da cane e una da cazzo! Manda la pubblicità che dopo... C'è una sorpresa meravigliosa per te! Un'altra coda! Ma dobbiamo farli sempre così, i collegamenti da casa! È bellissimo! Ma per me va benissimo, guarda! Sì, sì! Sono senza Covid! Ma poi... Cosa c'è nell'armadio, scusa Luciana? Ci sono delle maglie, ma non lo aprirò mai! Se questo è quello che c'è... Adesso vediamo! Prima la pubblicità, poi apriamo l'armadio! Vediamo! Grazie! Grazie! Grazie!